un full timer pesca sempre in pesca ma guardate le potenti mezzi di attrezzatura che ha questo uomo cioè uno può venire a pescare con un'antenna di una macchina ed ecco micro canna oggi affronteremo il big fish con questo micro cannino paura ragazzi paura voglio proprio vedere come va a finire in america spopola no segnanti di black di becco di bloccarla bene c'è qualcosa che non va ecco micro cannino piccolo e carino piombino amo senza ardiglione ma solo metterli e vediamo cosa succede mulinello inguardabile mulinello inguardabile ragazzi vediamo che succede molto minimal vedete sono minimissimo oggi proprio male minimale la socia però va anche la dai lasciamo andare giù c'è da ridere se parte che cazzo ho preso non lo so però che cazzo ho preso per me non sono d'accordo che va ad essere preso parte a tromba oh merda per me non sono d'accordo che l'ho preso ma che allora cazzo ho preso canino per fortuna l'ho preso di piccole dimensioni sono colpifaro che la tiro su la pen non delude non delude bamba non sono neanche accorde questo di essere presa amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish full time pesca sempre in pesca ma guardate le potenti mezzi l'attrezzatura che a questo uomo c'è uno può venire a pescare con un'antenna di una macchina c'è questo non aveva la canna staccato l'antenna della macchina gli attaccato un murinello da 2 euro e 50 dovuto pescare e nonostante tutto le staghe prendendo belle qualche carpone che preso ragazzi qui c'è il salame c'è il salame c'è il salame io non ti aiuto perché sennò invalido la gara non posso non posso aiutarti allora abbiamo nostro grande steve alle presi con una carpa nera ha preso la carpa nera la famosa e rarissima carpa nera incredibile grande steve con cosa l'hai presa una bolla solo yogurt spaventosa non si può neanche sentire è l'antenna della macchina guarda che carpone che preso faccelo vedere steve che dopo la pesiamo peso guarda qui bellissimo bellissimo complimenti tiralo su che la facciamo per bene facciamo il video proprio definitivo copriti gli occhi che non farti vedere ragazzi questo è il lago big fish ciao a tutti e full time al pesca un timer pesca iscrivetevi un bel like a sinistra a destra iscrivetevi è uguale basta marchetti basta fammi una foto basta marchetti basta ma mi non in in st ma in 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 18 19